Ciao amici di Viva FM, mille auguri da me, 19 anni di radio, wow che traguardo, so che fate una festa il 16 giugno al Coco Beach di Lonato del Garda, giusto? Ore 21, divertitevi anche per me, un abbraccio da Siria e buona estate, ciao! Oh, I got this beat on my mind